La polizia da morti ha il nostro diritto, questa piazza è anche nostra, questa buona è dei cittadini, vogliono solo dire loro, vogliono solo dire come è andata in questi mesi e loro abbiamo il diritto di stare in una piazza che è nostra, fateci sottore, tagliateci le mani di topo, è una piazza, guassatevi, guassatevi! Cari cari manifestanti, cari cari cittadini, cari cari cittadini che spingono sull'anno di setto, è una vergogna, è proprio vergognoso, ci sono stati più di 30.000 morti e ci picchiano e ci manca legno e questa è la risposta della regione Lombardia, è una vergogna!